facciamo la correzione della verifica sulla divisione tra polinomi regole di ruffini e teorema del resto cominciamo con la prima divisione fatemi copiare l'esercizio aggiungiamo acqua qua sotto qui per questa divisione è necessario utilizzare l'algoritmo della divisione perché perché il dividendo del divisore è di secondo grado ok quindi qui ci sono il dividendo è un polinome di terzo grado completo ci sono tutti i termini quindi non serve riempire lo spazio con gli zeri quindi procediamo con la divisione comincio proprio da qua prendiamo il monomio di grado più alto del dividendo 4x alla terza lo divido per 2x alla seconda 4 diviso 2 fa 2 x la terza diviso x alla seconda fa x poi moltiplico il monomio che ho appena ottenuto questo 2x moltiplico per tutto il divisore e del cambio il segno ed elenco con le potenze corrispondenti della x sotto il dividendo per tornare il primo resto parziale quindi 2x per 2x alla seconda fa 4x alla terza che ho cambiato di segno meno 4x alla terza 2x per 1 fa 2x cambiato di segno meno 2x e poi sommo 4x alla terza più meno 4x alla terza da 0 2x alla seconda più 0 fa 2x alla seconda meno 2x meno 2x fa meno 4x e poi meno 1 più 0 fa meno 1 questo è il primo resto parziale ricomincio partendo dal resto parziale 2x alla seconda diviso 2x alla seconda fa 1 quindi qui aggiungo più 1 adesso prendo il più 1 lo moltiplico per il divisore ed elenco qua sotto cambiando di segno 1 per 2x fa 2x alla seconda cambiando di segno meno 2x alla seconda e 1 per 1 fa 1 cambiando di segno meno 1 e adesso sommiamo qui fa 0 qui o meno 4x qui o meno 2 questo è il quoziente e questo è il resto il quoziente è 2x più 1 il resto è meno 4x meno 2 qui la divisione si ferma perché perché il resto parziale che è quello definitivo a un grado inferiore del divisore e finché il grado non scende sotto quello del divisore vado avanti quando il grado è sotto quindi non potrei per esempio fare meno 4x diviso in cioè sono perché avrei una frazione algebrita avrei x alla meno 1 ok non ho più un polinomio domande fin qua no ben andiamo avanti facciamo un secondo copiare il testo eccolo qui questo è un'altra divisione che richiede l'algoritmo generale quello che in questo caso attenzione il divisore ci dicono del dividendo non è un problema completo ok perché manca per esempio la potenza 4 ma anche la potenza 2 e devo riempire con gli zeri quindi ho x alla quinta più zero x alla quarta più 3x alla terza più zero x alla seconda più x più 1 diviso x alla terza più 1 ho copiato bene si più 1 ora cominciamo x alla quinta diviso x alla terza fa x alla seconda calcoliamo l'altro parziale x alla seconda per x alla terza per x alla quinta cambiato di segno viene meno x alla quinta x alla seconda per 1 fa x alla seconda cambiato di segno viene meno x alla seconda ero in colonno sotto l'x alla seconda facciamo la somma qui viene 0 qui viene 0 perché prima non c'era quindi 0 fa 0 qui viene più 3x alla terza 0x alla seconda meno x alla seconda fa meno x alla seconda poi più x e più 1 ok domande qui il resto parziale di grado 3 il divisore di grado 3 faccio ancora un passo quindi 3x alla terza diviso x alla terza fa 3 moltipliciamo il 3 per il divisore 3 per x alla terza fa 3x alla terza cambiato di segno meno 3x alla terza 3 per 1 fa 3 cambiato di segno meno 3 quindi qui sommiamo qui viene 0 meno x alla seconda più x più 1 meno 3 fa meno 2 e qui mi fermo perché perché il resto parziale è di grado inferiore al divisore quindi questo è il potente e questo è il resto ok ben non esercizio numero 3 quello che qui abbiamo qualche coefficiente frazionario nessun problema e qui devo usare l'algoritmo generale interi si poteva usare anche ruffini ma complica la vita un pochetto preferisco usare quello generale il divisore il dividendo scusate imponiamo di terzo grado completo c'è una potenza 3 2 1 e 0 il divisore di primo grado procediamo con la divisione qui devo dividere un mezzo x alla terza diviso meno un quarto x prima cosa che guarda il segno questo è positivo un mezzo x alla terza questo è negativo più diviso meno fa meno un mezzo diviso un quarto è come dire un mezzo per 4 lo faccio qua sotto un mezzo diviso un quarto è uguale un mezzo per 4 posso cambiare la divisione e moltiplicazione invertendo il numeratore denominatore ottengo 2 quindi ho meno 2 poi x alla terza diviso x fa x alla seconda questo è un 2 ok quindi il primo monomio del quoziente è meno 2 x alla seconda moltiplico questo per il divisore meno 2 per meno un quarto fa più un mezzo x alla seconda per x fa x alla terza cambio di segno meno un mezzo x alla terza poi ho meno 2 x alla seconda per 1 fa meno 2 x alla seconda cambiato di segno più 2 x alla seconda calcoliamo il resto parziale qui ottengo 0 meno un quarto x alla seconda più 2 x alla seconda che questo lo facciamo qua sotto meno un quarto più due ok fa sette quarti ok 2 per 4 fa 8 meno 1 7 più sette quarti quindi abbiamo più sette quarti x alla seconda poi più x più 2 ok ci sono domande continuiamo perché il grado del diritto parziale è più grande del divisore sette quarti diviso un quarto meno un quarto più diviso meno fa meno sette quarti diviso un quarto è come dire sette quarti per 4 quindi rimane 7 x alla seconda diviso x fa x calcoliamo il resto parziale meno sette x più per meno un quarto x fa più sette quarti x alla seconda cambiato di segno meno sette quarti x alla seconda poi ho meno sette x per 1 fa meno sette x cambiato di segno più sette x e insomma questo mi da zero qui ho 1 e 7 che fa 8 8 x più 8 x e poi ho più due questo fatto meno spostare non ho più spazio un po' qui sotto ecco dovrebbe bastare ok qui adesso ho il grado del resto parziale è uguale al divisore quindi continuo 8 x diviso un quarto è come dire 8 per 4 che fa 32 col meno perché più per meno fa meno quindi qui ho meno 32 meno 32 per meno un quarto fa più 8 cambiato di segno meno 8 x poi meno 32 per 1 fa meno 32 cambiato di segno più 32 quindi qui ho 8 minuto di segno meno 8 quindi qui ho 8 minuto fa 0 32 più 2 fa 34 questo è il potente e questo è il resto il resto è 34 ok bene passiamo al successivo eccolo qua qui c'è una divisione con le lettere e devo dividere rispetto alla variabile x quindi mettiamo qui considero la a come se fosse un numero quindi qui mancano alcuni termini c'è grado quarto grado terzo ma anche il secondo grado dobbiamo metterlo quindi abbiamo a x alla quarta quando dico dividi rispetto alla variabile x tutto ciò che non è x viene al primo posto di solito nei monomi si mette la x all'ultimo quindi viene a x alla quarta meno 3 x alla terza più 0 x alla seconda meno x più a diviso x alla seconda più 1 a x alla quarta diviso x alla seconda a diviso 1 fa a x alla quarta diviso x alla seconda fa x alla seconda moltiplichiamo a x alla seconda per x alla seconda che fa x alla quarta cambio di segno meno a x alla quarta a x alla seconda per 1 fa a x alla seconda cambiato di segno fa meno a x alla seconda che va incolonnato sotto x alla seconda sommiamo qui ho 0 qui mi rimane meno 3 x alla terza qui ho meno a x alla seconda meno x e più a questo è di terzo grado quindi vado avanti meno 3 x alla terza diviso x alla seconda fa meno 3 diviso 1 fa meno 3 x alla seconda diviso x alla terza scusate diviso x alla seconda fa x e così andiamo avanti meno 3 x per x alla seconda fa meno 3 x alla seconda cambiato di segno più 3 x alla terza meno 3 x per 1 fa meno 3 x cambiato di segno più 3 x che va incolonnato sotto la x qui ho 0 qui ho meno meno a x alla seconda qui ho meno x più 3 x fa più 2 x e infine più a ok questo è di secondo grado quindi faccio ancora un passaggio meno a x alla seconda diviso x alla seconda fa meno a i due x alla seconda vanno via rimane meno a diviso 1 che fa meno a meno a per x alla seconda fa meno a x alla seconda cambiato di segno più a x alla seconda meno a per 1 fa meno a cambiato di segno più a quindi qui abbiamo 0 qui abbiamo 2 x e più 2 a questo è il quotiente e questo è il resto il resto è 2 x più 2 a e il quotiente è a x alla seconda meno 3 x meno a domande? bene vediamo ancora il 5 qui la variabile di rispetto a cui si divise è m perché c'è solo la m quindi qualcuno ha scritto la x al posto della m va bene però alla fine devi esprimere il quotiente e il resto in termini di m ok è possibile farlo e dico ma io sono abitato con la x cambio la x d'accordo però alla fine devo dare il risultato in termini di m d'accordo? qui abbiamo un polinomio di quinto grado in cui mancano tutti i termini tranne quello di grado 0 quindi dobbiamo completarlo quindi questo lo dobbiamo scrivere come m alla quinta più 0 m alla quarta più 0 m alla terza più 0 m alla seconda più 0 m meno 1 e poi ho m alla terza più 2 m alla quinta diviso m alla terza fa m alla seconda m alla seconda per m alla terza fa m alla quinta cambiato di segno meno m alla quinta m alla seconda per 2 fa 2m alla seconda cambiando di segno meno 2m alla seconda e lo incolonno sotto la m di potenza corrispondente m alla quinta meno m alla quinta fa 0 qui ho 0, qui ho 0 qui ho meno 2m alla seconda più 0m meno 1 e qui mi fermo perché? perché il resto parziale è di secondo grado il divisore di secondo grado non può più andare avanti questo è il quoziente e questo è il resto il quoziente è m alla seconda e il resto è meno 2m alla seconda meno 1 ok? bene, detto questo passiamo al successivo che mi pare il 6 eccolo qui e dice usa la regola di Ruffini per eseguire la divisione ecco la qui scusate un secondo allargo un pochetto perfetto allora qui abbiamo il divisore che è x meno 4 il dividendo che è x alla terza meno 4x alla seconda meno x meno 4 quindi qui non mancano termini che sono tutti quindi mettiamo in elenco attenzione solo il coefficiente quindi ho davanti a x alla terza c'è 1 poi ho meno 4 meno 1 e ancora meno 4 facciamo una vara verticale prima del primo numero e prima dell'ultimo una vara orizzontale qui va posto il numero che annulla il divisore che è 4 più 4 ok? o se preferite il numero che c'è dopo la x cambiato di segno abbasso l'1 4 per 1 fa 4 meno 4 più 4 fa 0 4 per 0 fa 0 meno 1 più 0 fa meno 1 4 per 1 fa meno 4 meno 4 meno 4 fa meno 8 meno 8 è il resto della divisione e questo è il quotiente qui c'è grado 0 quindi meno 1 grado 1 quindi è 0 per x grado 2 è 1 per x la seconda quindi in sostanza ho il quotiente è x la seconda meno 1 e il resto è meno 8 domande? non ci sono domande andiamo avanti siamo ai 7 se non mi ricordo male eccolo qui la copia qui attenzione chiede di calcolare il resto della divisione senza eseguire la divisione quindi praticamente usa il teorema del resto se voleva la divisione poteva farla in brutta copia ma non è bella ok questo è il nostro dividendo questo scusate questo è il dividendo qui di x questo è il divisore quindi il resto della divisione vale il valore del polinomio quando x in questo caso vale meno 1 cioè il numero che annulla questo o il numero che segue la x cambiato di segno quindi qui abbiamo il primo termine x alla quinta quindi ho meno 1 meglio metto tra pasentesi alla quinta poi ho meno x alla terza quindi meno 1 alla terza meno ancora meno 1 e poi più 1 meno 1 alla quinta potenza dispari rimane il meno quindi questo fa meno 1 meno 1 alla terza farebbe meno 1 ma quel meno davanti diventa più 1 poi ancora meno meno 1 che fa più 1 e ancora più 1 questi due vanno via il resto è 2 ok e infine ultimo esercizio l'otto chiedeva prendi questi due polinomi uno è parametrico un polinomi un polinomi parametrico il p contiene la m che è un parametro non sappiamo quanto vale calcola quant'è m in modo tale che il resto della divisione sia di p che di q divisi per x più 1 abbiano lo stesso valore quindi il resto della divisione del polinomio p quant'è è il valore del polinomio quando x vale meno 1 che è il numero che annulla questa e viene 4 per meno 1 alla quarta meno 2 per meno 1 alla seconda più m per meno 1 e ancora più 3 allora meno 1 alla quarta fa 1 perché la potenza è pari quindi viene 4 meno 1 alla seconda fa 1 ancora per meno 2 fa meno 2 meno 1 per m fa meno m più 3 4 meno 2 fa 2 più 3 è 5 questo è 5 meno m il resto il resto del polinomio q vale il polinomio q quando x vale sempre lo stesso numero cioè meno 1 q vale meno x alla terza più di x alla seconda più x più 1 quindi abbiamo meno meno 1 alla terza più 2 per meno 1 alla seconda più ancora meno 1 e poi infine più un altro 1 questo quanto vale meno 1 alla terza farebbe meno 1 ma quel meno davanti viene più 1 meno 1 alla seconda fa più 1 per 2 più 2 meno 1 e più 1 quindi abbiamo questi si cancellano 3 quindi i due resti il resto della divisione di p e il resto della divisione di q sono uguali se il resto della divisione di p che è 5 meno m vale quanto il resto della divisione di q che è 3 qui ho un'equazione nell'incognita m sposto 5 a destra 3 meno 5 che fa meno 2 e moltiplico tutto per meno 1 m uguale a 2 se m vale 2 i due resti sono entrambi uguali a 3 ci sono domande? se non ci sono domande mi fermo qui non ci sono domande è al sa prima ci sono domande c'è di